è mezzogiorno buongiorno a tutti buongiorno a tutte benvenuti a tintoria live buongiorno a tutti buongiorno a tutte suonano le campane è martedì 28 aprile benvenuti a una nuova puntata di tintoria live in tempo di quarantena perché in tempo di quarantena si chiederanno i nuovi arrivati a tintoria live perché innanzitutto perché siamo in quarantena e poi perché è l'inizio di una frase che vorrei che completaste per andare a formare uno slogan che catturi la frustrazione sessuale degli italiani e delle italiane che non possono fare l'amore in questo periodo in questo momento in testa ci sono in tempo di quarantena ogni sedia è altalena in tempo di quarantena ogni luce è luna piena ma oggi non siamo qui per parlare di sesso oggi siamo qui per parlare di amore non so cos'è l'amore forse una contraddizione cantava franco 126 nel nel singolo io non so cos'è l'amore del nuovo disco di ketama e insomma è difficile definire l'amore e soprattutto in questo periodo storico in periodo storico di congiunti in periodo storico di affetti stabili cosa sta dicendo sta inventando parole no sto citando direttamente niente po' di meno che il presidente del consiglio dei ministri giuseppe conte che ha detto che possiamo uscire di casa possiamo visitarci solo tra congiunti o tra affetti stabili che sono dei termini estremamente vaghi e soprattutto da cosa sono definiti sai marito e moglie c'è un contratto ma affetto stabile chi è cioè un amico mio carissimo è un affetto stabile una mia cugina lontana è un affetto stabile e come funziona e soprattutto chi lo decide cioè ma pure la mia ragazza se adesso il 4 maggio la mia ragazza smette di fare la quarantena qui torna a casa sua sempre qua a roma e poi noi ci vogliamo vedere io vado in motorino da lei la polizia mi ferma io dico sto andando alla mia ragazza e loro mi devono prendere in parola perché come fanno a sapere che non c'è un contratto matrimoniale non c'è niente e quindi devo essere convincente no no è proprio la mia ragazza mi fanno un quiz sulla mia ragazza e se ci incontrano insieme ci dobbiamo baciare davanti a loro e soprattutto agli omosessuali verrà riconosciuto a questa cosa di affetto stabile e quindi io potrò approfittare delle battaglie fatte dagli omosessuali in questo periodo tra l'altro voglio proprio vedere i poliziotti che quando dici questo è il mio ragazzo abbozzano ma se io sto in giro con un mio amico e dico no no questo è il mio congiunto è il mio affetto stabile siamo gay va bene così perché giustamente cioè non lo decido io chi è il mio congiunto e il mio affetto stabile quindi quanti di noi approfitteranno di anni di battaglie degli omosessuali per poi semplicemente andarsi a fumare una sicure una sigaretta con gli amici e soprattutto se sono poliamoroso se i miei affetti stabili sono tante persone se voglio fare una festa dove scopiamo in cinque perché sono tutti i miei affetti stabili lo posso fare questo suppongo di no ma comunque sia siamo entrati in un'epoca in cui sono finiti i rapporti a metà oggi ci si guarda negli occhi ragazzo ragazza ragazzo ragazzo ragazza ragazza e via discorrendo e si dice tu sei il mio affetto stabile perché altrimenti la polizia sente la paura nelle nostre voci mentre mentiamo e stiamo andando semplicemente a mettere il pene in caldo o a non so quale sia una cosa abbastanza vulgare che mi faccia vergognare come quella che ho appena detto ma riferita alle donne comunque avete capito se andiamo solo a scopare la polizia lo sa e soprattutto lo sa anche dio perché ricordiamo che a tutti i costi l'italia sta cercando di riaprire le chiese per andare a messa tra l'altro la cosa mi sembra una mossa politica perché non ho effettivamente sentito nessun vecchio o nessuna vecchia pure mia nonna lamentarsi che non può andare a messa nel senso capiscono la situazione capiscono anche di essere le persone più a rischio adesso scusate qua ho fatto una generalizzazione non sono solo vecchi e vecchi che vanno a messa però la maggior parte dei fedeli che vanno a messa tutte le domeniche sono anziani lo dico perché quando accompagno mia nonna lo vedo quello che succede poi magari quella è solo la sua parrocchia però la maggior parte sono anziani e sono anche le persone più a rischio di questo coronavirus quindi non capiscono che è un'emergenza e si può aspettare un po' per andare a messa anche se le dispiace si può pregare da casa mi sembra però che ci sia la mossa politica di dover riaprire le chiese a tutti i costi perché altrimenti queste questi stormi di fedeli disperati che non capisco sembra che siano stupidi fedeli che se le dici c'è una pandemia non vi dovete vedere mi devo vedere sulle panche della chiesa no se c'è una pandemia non ci possiamo vedere le persone capiscono che non si possono vedere neanche sulle panche della chiesa e soprattutto se si può stare in chiesa sulle panche ma separati da un metro all'altro allora io voglio poter stare anche al cinema separato da una serie all'altra e voglio poter fare stand up nei cinema e nei teatri separati da una serie all'altra questo lo dico per mio interesse personale ma anche perché c'è bisogno di ridere come si suol dire allora vado un attimo in chat prima di leggere le vostre risposte infatti andava tutto bene fino ai congiunti la correzione degli affetti stabili non ha senso e dovranno dare spiegazioni per correggere il tiro la cugina congiunta vale doppio non c'è cosa più divina che scoparsi la congiunta cugina questo consiglio a tutte le persone frustrate sessualmente da questa quarantena non finisce mai prendete l'albero genealogico vi cercate una bella cugina un bel cugino di terzo grado che vive nella regione vi mandate un whatsapp non ci sarà neanche bisogno di tante spiegazioni e andate a fare l'amore incestuoso di terzo grado che quindi mi insegnate non è incestuoso assolutamente allora in tempo di quarantena ogni carta è pergamena nick mi aspetto molto di più da te grazie però per il contributo attenzione che adesso uno dei momenti più belli di tintoria live il momento in cui mi soffi il naso in diretta oh va bene non siamo qui per parlare di di sesso siamo qui per parlare di amore siamo qui per parlare di romanticismo perché 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 sì perché questa è la domanda che vi ho fatto ieri vi ho chiesto quali sono le cose più più romantiche che avete fatto o che avete ricevuto le cose romantiche che avete ricevuto non è la però diciamo i gesti romantici che avete subito no neanche questo è il verbo corretto però ci siamo capiti o a cui comunque avete assistito durante questa quarantena perché vi dico una cosa stando io comunque sia in casa con la mia ragazza durante questi giorni non è facile quando si sta tutto il tempo insieme fare i gesti romantici e quindi è nelle piccole cose perché siamo tutto il tempo insieme sta tutto il tempo a dire che ci mangiamo mentre pranziamo diciamo che ci mangiamo a cena mentre ceniamo diciamo che ci mangeremo a pranzo ci facciamo anche per una questione di sopravvivenza anche molti cazzi nostri adesso sto facendo dittoria live lei sta nell'altra stanza al telefono quindi per me la cosa romantica che faccio è che quando tipo durante il weekend ognuno sta su zoom su skype con i propri amici e le proprie amiche e durante il weekend è anche l'unico periodo in cui abbiamo deciso che possiamo bere io faccio sempre attenzione che il suo bicchiere mentre sta su zoom o su skype non sia mai vuoto però ecco appunto sono sono questi sono i piccoli gesti secondo me speriamo che bastino per ora va tutto bene vi tengo aggiornati ma volevo chiedere anzi senza volevo chiedere vi ho chiesto a voi quali sono stati i vostri gesti più romantici più carini più 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 amorevoli che avete fatto o a cui avete assistito e devo dire tra l'altro domanda non so se l'avete vista su instagram che ho fatto ieri notte molto tardi l'ho fatta appena mi ero messo a letto per andare a dormire per cui le risposte sono meno del solito perché indovinate un po se una domanda la faccio la sera prima alle nove riceve più risposte se la faccio la sera prima all'una e mezza riceve meno risposte chi l'avrebbe mai detto allora ma quindi si può andare all'ufficio anagrafe per fare delle ricerche sui congiunti nomiche le devi secondo me puoi puntare una ragazza che ti piace dire vogliamo congiungerci e vedere cosa succede allora la domanda esatta che ho fatto era qual è il gesto più romantico che avete fatto ricevuto in questa quarantena la prima risposta le ho comprato una mascherina lavabile con filtri intercambiabili il romanticismo ai tempi della pandemia complimenti perché questo è un bel gesto una bella mascherina fashion con stile elegante cool trendy lavabile stupenda complimenti questo è un bellissimo un bellissimo gesto adesso appena riaprono le sartorie ma mi direte sono aperte le sartorie perché vi odio non è vero non vi odio state con me ragazzi e ragazze che manca poco alla fine di intoria live adesso fare tutte le mascherine matching bisogna farsi tipo io sto con lei io sto con lui quelle cose mega patetiche la mia ragazza mi ha portato cinque volte dal cancello dolci fatti da lei e pane semplice con le noci sposala questo è l'unico verbo che mi sento di dirti sposala subitamente perché una che viene non state neanche in tempo insieme non sa non sa neanche insieme in tempo di quarantena una che ti viene sotto casa con i dolci fatti da lei e il pane semplice il pane con le noci e te lo passa dal cancello e ti dice ciao ti amo quando esci da qua la devi sposare poi a sorpresa tipo che lei voglia o no le dice no ma è troppo questo di sposarci zitta detto detto tinti che ci dobbiamo sposare il mio fidanzato mi ha regalato la mascherina che protegge al 99 per cento l'ha pagata 15 euro il tuo fidanzato si prende cura di te noi in questa casa andiamo avanti con le stesse dieci mascherine chirurgiche da 45 giorni che oramai sono più vettori di virus di un di uno scienziato zoofilo di wuhan quindi complimenti al tuo ragazzo che ha scuscito 15 bigliettoni per proteggerti al 99 per cento se la gioca su quell'un per cento che ti ammali e può andare in giro con altre con altre ragazze malate scherzo lo sconto al mercato ortofrutticolo la tizia mi scala sempre 30 centesimi è amore anche perché no sì questo è amore veramente perché il mercato ortofrutticolo tu mi insegni vende un sacco di cose che costano poco quindi una cosa che io ho sempre notato è l'attenzione che hanno pure nel darti il resto tipo se tu hai un resto e devi prendere gli 5 centesimi gli a volte dico vabbè non fa niente ma non è che mi devi andare a prendere un bronzino in fondo alla cassa invece loro ci stanno proprio attenti perché avendo loro conti tipo di ok ti ho dato 70 centesimi di verdura se poi sono 70 75 centesimi a loro cambia tanto e quindi loro per rispetto stanno attenti a questi soldi quindi ben 30 centesimi di sconto sono tanti è effettivamente amore però visto che ti sta cercando di comprare caro mio 30 centesimi alla volta forse è più prostituzione il gesto romantico è una caccia e pepe cucinata da giorgio trovata al ritorno da una notte di lavoro tremenda questo è un bellissimo gesto anche perché la caccia e pepe è difficilissima e soprattutto tu che è dottoressa la persona che ci scrive abbiamo pure sentito un suo intervento in questo podcast sei tornata dalla notte quindi tu sei arrivata la mattina a casa hai trovato una caccia e pepe mattutina mi sembra un bellissimo gesto lui si è svegliato presto per cucinare una caccia e pepe che comunque è tosta tipo svegliarsi alle sette e mettersi a fare una caccia e pepe mi sembra un bellissimo gesto chiedere aiuto per aprire la cassetta dell'acqua carissimo per adesso tu sei stato sconfitto da tutti gli altri messaggi perché è vero che chiedere aiuto per aprire la cassetta dell'acqua è un bel gesto è anche un ottimo approccio per rimorchiare un maschio e da uno gli fai scusami non ce la faccio potrei scusate questa è una pessima invitazione però avete capito ragazze se chiedete a un ragazzo di aprirvi un baratto una cassetta una cosa difficile aprire lui si sente improvvisamente tutto ringalluzzito e sicuramente è anche un ottimo rompighiaccio per per iniziare una conversazione la mia ragazza mi ha cucinato sei biscotti su minecraft allora la tua ragazza è molto gentile non so se questa qua è una cosa in codice nel senso sei biscotti su minecraft sono una cosa ben precisa e quindi mi stai dicendo mi stai cercando di dare un messaggio però anche i biscotti su minecraft vanno benissimo complimenti complimenti alla tua ragazza ho regalato al padre la maglia di materazzi indossata lui mi lascia a casa sua e la figlia per fase 2 cioè tu ti sei comprato una ragazza con una maglia indossata da materazzi tu sei una persona terrificante no a parte tutto immagino che voi siate fidanzati è molto bello quindi questa cosa quindi tu hai una maglia di materazzi indossata da materazzi e tuo padre e il padre della tua ragazza vi lascia una casa e la figlia per la fase 2 quindi tu e la tua ragazza potete stare insieme in casa del padre vabbè mi sembra che ci hai guadagnato il padre certo grosso infame che ti ha dovuto portare via la maglia indossata da materazzi visto che sei immagino il ragazzo della figlia e lui c'era questa casa evidentemente magari lo poteva fare lo stesso senza la maglia di materazzi se tu e questa ragazza non state insieme questa storia è veri 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 dark la cosa più romantica a cui ho assistito ho cercato romance su pornhub beh consigliatissimo e consigliatissimo cercare romance su pornhub anch'io nei miei tempi d'oro cercavo le storie d'amore tipo couples who love each other molto bello molto bello tra l'altro era un periodo della mia vita in cui dicevo beh visto che si amano poi nel porno sarà bene che ci sia un orgasmo rumoroso quindi cercavo specificamente porno in cui la ragazza aveva un bello orgasmo vocalizzava bene l'orgasmo ah i tempi della pornografia ogni tanto mi manca ma principalmente no vivo meglio senza pornografia aveva su di me lo stesso effetto delle canne intanto qualcuno risponde complimenti per il tuo profilo grazie mille immagino tu sia un bot perché che tu rispondi a questa domanda con complimenti per il tuo profilo immagino che tu sia qui a pescare follower ebbene sei nel posto sbagliato andiamo ah ma oggi ragazzi ragazze c'ho un mal di schiena che mi si porta in giro oggi se non piove vado sul tetto a fare stretching perché così non si può stare non è questa la vita che volevo ah ecco di cosa adesso continuiamo con le risposte a proposito di stretching sono uscite attenzione a ieri le altre altre due puntate del documentario sull'ultima stagione di michael jordan ai chicago bulls si intitola the last dance vedetevele perché non sono secondo me le più belle parlano di dennis rodman e un po di phil jackson poco di phil jackson dennis rodman era diciamo il terzo dei tre amigos dei tre amigos dei bulls era un pazzo stato fidanzato tra gli altri con carmen elettra e madonna e però insomma la puntata è un po noiosa perché poi dennis rodman è sempre 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 uguale a se stesso nel senso che è uno che negli anni 90 si tingeva i capelli era tatuato si vestiva in modo strano e dice sono pazzo sono pazzo sono pazzo però poi dennis rodman non c'è ok sei pazzo in che modo sei pazzo sei pazzo interessante no era solo pazzo detto questo uno dei migliori rimbalzisti della storia sicuramente uno dei migliori rimbalzisti della storia un grandissimo difensore un personaggio comunque sia particolare in dei bulls molto rigorosi e severi andatevi a vedere la seconda e la terza puntata e si la terza e la quarta puntata della stanza anche perché nelle prossime puntate da quello che ho capito ci saranno un sacco di chicchette perché come alcuni di voi sapranno michael jordan aveva anche dei lati oscuri ci sono anche successe delle cose cupe e tristi e secondo me nelle prossime puntate si parlerà di questo tra l'altro non vi dico come non vi dico perché ho l'ho accesso ad alcune puntate in anteprima assoluta ma ho deciso di non vederle per fare poi questo breve commento superficiale insieme a voi un saluto agli amici e le amiche in ascolta appassionati di basket e non intanto in chat mi scrivono ho scritto e spedito una lettera alla mia ragazza per il nostro sesto anniversario in sei anni mai fatto beh bello scritto la lettera scritta a mano molto bella poi pensa che bello ricevi posto durante la quarantena pensi ecco qua la solita bolletta del cazzo perché poi oramai quando ricevi posta sono sempre bollette e invece è una bella lettera del tuo fidanzato che ho scritto la cucina è sporca senza di te subito hai fatto del maschilismo non è vero che c'è scritto questa cosa e ve lo dico allora no secondo me pazzo super interessante sia per la sua storia che non conoscevo sia per come si è evoluto il suo personaggio sul campo stiamo parlando noi dennis rodman che mi sottolineano amico di kim joe moon tra l'altro rodman saprà se è vivo è vero dennis rodman è poi diventato amico del dittatore nordcoreano kim joe moon perché il dittatore nordcoreano era un grandissimo fan dei bulls di jordan certo non è un caso che poi tra jordan pippen e dennis rodman sia diventato amico di annis rodman che sta completamente fuori di testa comunque torniamo torniamo ai momenti romantici alle cose romantiche a cui avete assistito e che avete fatto durante la quarantena va vale essermi segato pensando alla mia ragazza anziché andare su pornhub sì cioè nel senso per carità hai fatto bene però non è non è romantico verso di lei cioè a lei non è che gli arrivano delle onde radio che dice a che pensiero carino quindi dovresti fare qualcosa per lei la mia vicina di casa con la quale non avevo mai parlato mi ha lasciato un bigliettino sul terrazzo per chiedermi se mi andare a parlare un po con lei ma che cazzo dici ma questa storia è bellissima cioè tu sei andato sul terrazzo e la tua vicina che non conoscevi ti ha lasciato un bigliettino scritto ti va di parlare ma tu spero che tu ti sia innamorato istantaneamente di questa persona spero che abbiate fatto l'amore spero che farete l'amore perché se non lo fate io mi metto a piangere che meraviglia ma che grande lei che grande lei sono invidiosissimo di questa di pensa il momento in cui hai visto il bigliettino hai detto dai ma ti pare sarà una carta e invece hai trovato un bigliettino carino ti prego ti prego ti prego dici di più perché questo è esattamente il tipo di romanticismo in quarantena che volevamo sentire quindi ti prego dici di più il 2 maggio io e la mia ragazza sono sei mesi che stiamo insieme e se la sorpresa mi riesce le faccio arrivare dei fiori a casa sempre se li consegno nel tempo perché se no la sorpresa va in vacca o la mossa dei fiori l'hanno fatta l'hanno fatta in tanti perché insomma mi sai che i fiorai sono aperti quindi potete lasciare i fiori molto bello anche sei mesi non è male come periodo sei mesi il 2 maggio tra l'altro non vorrei dire niente ma forse è esattamente lo stesso time frame che mi trovo a vivere io nella mia relazione intanto però qua i tuoi fiori passano in secondo piano perché in chat tutti impazziti per la storia del bigliettino sul terrazzo secondo me ci fa impazzire anche perché il bigliettino è lei ad averlo lasciato a lui che ci fa tutti sentire male perché quanto quanto spesso ci capitano uomini di ricevere un bigliettino praticamente mai quindi sul terrazzo e tutti stanno scrivendo è amore sto piangendo per la storia del terrazzo soggetto della prossima commedia romantica prima ti infatti e poi ti sposo questo è un po dark e poi vogliono sapere più dettagli di questa storia del terrazzo dicono ama la lasciale dei fiori e poi matteo sempre dark dice cambia casa ma che dici matteo qui sta per nascere una bellissima storia d'amore vogliamo sapere di più va bene vogliamo sapere di più anche se poi diventa solo una storia di sesso pasqua due punti tu fast for polizia sono andato a rubare un bacio alla mia ragazza e gli ho portato il tiramisù ecco qua il vettore del virus che poi flexa pure che è andato a dare un bacio alla sua ragazza quindi proprio esattamente la cosa che non dovevi fare le portate il tiramisù questo è molto romantico è un po irresponsabile dal punto di vista civile apprezzo però tantissimo il riferimento al truce clan per le persone che stavano in ascolto in diretta è con deadly combination che abbiamo aperto il check di questa puntata per controllare che il microfono funzionasse check it esclusivo uno spalo nel culo di chi parla di quello che scrivo il mio coinquilino mi ha fatto arrivare la cena a casa il giorno del mio compleanno sono solo beh ma questo che bello che grande lui perché lui che cos'è un fuorisede che è tornato a casa dei genitori e ti ha fatto comunque arrivare la cena a casa il giorno del tuo compleanno questo è molto bello molto carino complimenti al tuo coinquilino intanto Matteo continua super dark una donna che ti lascia un bigliettino it's a trap Matteo ma tu che brutta esperienza hai avuto con le donne che tipo di trappola dovrebbe essere una donna che ti lascia un bigliettino non può essere semplicemente una a cui va di parlare poi alla fine non è che noi stiamo dicendo è amore 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 ma magari è semplicemente una che gli va di parlare ma comunque sia benvenga una persona a cui va di parlare con te in un periodo come questo da balcone a balcone poi c'è romantico per definizione cos'è che potrebbe andare storto Matteo dici i tuoi dubbi come potrebbe andare storta una conversazione di questo tipo intanto continuiamo con le risposte ho mandato un audio alla mia ragazza col battito del mio cuore perché la rilassa prima di dormire allora questa americanata normalmente non la apprezzerei però devo dire che in questo periodo la trovo molto carina mi chiedo come hai fatto ad avere un audio del battito del tuo cuore ti sei avvicinato il microfono al petto oppure proprio c'hai una cosa registrata oppure una storia un po' più diversa che c'è tipo il pacemaker e quindi sai esattamente quali sono i battiti del tuo cuore io in questo caso non ti sto prendendo in giro massimo rispetto se usi il tuo pacemaker per mandare per mandare battiti del tuo cuore alla tua ragazza ancora sono stata mollata il primo giorno di quarantena mi ripeto che in realtà era un gesto romantico tosta ok tosta forse è meglio così perché meglio non stare con una persona che non vuole stare con te pensa farsi la quarantena con poi tutti i non detti le cose passive aggressive che vi lasciate alla fine della quarantena a sto punto meglio essere single ti abbozzi di stare sola il mio consiglio è scrivi comincia ad apparecchiarti per l'uscita della quarantena per quando si potrà tornare a fare l'amore e insomma scopa come una pazza questo è il mio consiglio che poi avrete notato che spesso è il consiglio di Tintoria Live ma qua siamo per l'amore libero intanto tante persone vogliono sapere qual è la trappola che la ragazza del balcone vuole piazzare secondo Matteo gli chiedono vuole proporle uno schema piramidale dici sarebbe bellissimo poi prendi sti due paletti sono di Scientology al massimo vuole parlargli di Geova ma magari è riferito alla trap come musica non credo sia riferito alla trap come musica Lorenzo dice perché il matrimonio è una trappola può essere? era un inside joke tra me e la mia ragazza che ho conosciuto in modo simile ah vabbè Matteo allora portacci tua qua c'era venuta a tutti l'ansia che madonna è una trappola Matteo c'è un'esperienza bruttissima con le donne odia le donne che pensa che stanno qua a imprigionare gli uomini dal balcone e invece poi tu e la tua ragazza vi siete conosciuti dal balcone con un bigliettino ma allora viva l'amore lo vedi Matteo facciamo galoppare l'amore in questo strano periodo conoscetevi mandatevi bigliettini vogliatevi bene baciatevi pomiciate infettatevi di virus fate tutte le cose che ci rendono felici allora ho ordinato la pizza per me e la mia ragazza in contemporanea e l'abbiamo mangiata in videocall bello elegante semplice e soprattutto italiano approvatissimo mandato una lettera e insieme una bustina del tè lo stesso che abbiamo bevuto l'ultima volta insieme bello mi piace mi piace che tu ti ricordi l'ultimo tè che vi siete bevuti insieme mi piace che tu gliel'abbia mandato e questo è bello perché poi avete bevuto insieme lo stesso tè anche se a distanza e questo vi ha fatto sentire vicini bello mi piace complimenti abbinato alla lettera questo è un grande colpo cercare di contattare Giorca F per fargli fare gli auguri per mio fratello impossibile un saluto a Yuri Giorca F e un saluto anche a tuo fratello fagli anche gli auguri perché non sapevo quando fosse il suo compleanno quindi io non gliel'ho fatti però sarebbe stato bello gli auguri di Giorca F il mio pusher mi ha portato la roba sotto casa sfidando ogni decreto questo però attenzione con i pusher non è romanticismo non è amicizia ricordate che è business perché immagino che poi non te l'abbia regalata non ti ha fatto beneficenza come si suol dire e per finire l'ultima risposta ospitare una mia amica Pasqua e Pasquetta che stava completamente da sola a casa quindi anche tu hai diffuso il rischio di contagio però hai fatto bene le persone sole vanno aiutate e bisogna starsi vicini e vicine va bene ragazzi mi pare che oggi si sia parlato d'amore si è parlato di sesso ma si è parlato anche d'amore quindi grazie a voi per aver condiviso le vostre storie romantiche o meno romantiche l'ho trovato molto bello vogliamo assolutamente sapere come continua la storia del bigliettino dal balcone perché è quella che ci ha appassionato più di tutti facci sapere se diventa se diventa amore facci sapere se diventa sesso facci sapere se diventa amicizia facci sapere qualsiasi cosa però trovarsi in tempo di quarantena o un bigliettino sul balcone che ho scritto ti va di parlare da una persona che non conosci mi sembra veramente che ti possa dare quella scintilla che non si sente più da quando è finito Rossana in televisione va bene grazie mille a tutti grazie mille a tutte per avermi fatto compagnia anche oggi tintoria resta aperta proprio come previsto dal dpcm non mi resta veramente che augurarvi buon appetito noi ci vediamo domani a mezzogiorno ciao ciao